Ciao leggine, ciao leggini, è una gioia fare questa lettura. Abbiamo saltato qualche settimana ma sto tornando questa modalità, mi piace tantissimo e quindi, saltato che ci sarà la nostra luna piena in sagittario, andiamo a fare una lettura insieme, sia per la settimana che per la luna piena. Allora, distribuiamo come al solito le carte per segno, quindi abbiamo ariete, toro, gemelli, cancro, leone e vergine. Poi abbiamo bilancia, scorpione, sagittario, capricorno, acquario, devo comprare un tavolo più grande, e pesci. E poi andiamo a vedere, un segno sarà quello baciato dalla luna piena in sagittario. Andiamo a vedere qual è. Intanto, questa luna è una luna di avventura, è una luna di sentimenti di giustizia, di sentirsi bene, di sentirsi giusto, di capire chi siamo, di sognare in grande. Ma non un sogno fine a se stesso, un sogno da realizzare. Il sagittario è un segno meraviglioso che ci ricorda che possiamo fare qualunque cosa. Quindi, visto questo caos, andiamo a divinare. Ariete. Allora, per te questa settimana si riattiverà il dono della visione. Se ce l'hai già attivo, probabilmente sarà particolarmente potente. Se invece è bloccato, lavora sullo stimolo del terzo chakra. Puoi fare delle meditazioni in cui un raggio di luce ti tocca la fronte, nel mezzo della fronte, e lo illumina. Un raggio di luce verde, per esempio. Puoi chiedere all'arcangelo Raffaele di guarirti. Insomma, questa per te sarà una settimana di visione. Molto utile, molto importante, vista la luna piena in sagittario. Poi vediamo se sei tu il segno baciato, la segna baciata, visto che la maggior parte di voi sono femmine. E quello che però ti dice in relazione a questa luna è che avrai la visione di quella che sarà un tuo progetto a lungo termine. Quindi concentrati sulla visione. Questa settimana, prima della luna piena, che sarà il 23, prenditi un momento per avere una visione, per cercare di costruire una visione di dove vuoi andare e di quello che sarà il tuo progetto a lungo termine. Poi torniamo da te per vedere se sei il segno fortunato. Toro, grotta di ametista. Tutt'altro, a te quello che ti porta questa luna è un po' di, diciamo, stanchezza, la necessità di riposare, la necessità di ricaricarti. La grotta di ametista è un luogo sacro dove puoi andare a farti ricaricare dai maestri, dai cristalli, dalle energie superiori. Quindi nel mio corso di channeling, nel primo sentiero, insegno come andare nella grotta di ametista. Quindi se sai fare questo, usa questa tecnica che è la più potente, se no, arrangiati con una meditazione, visualizzazione. Però la cosa importante è che vai in questo luogo di potere, chiamato grotta di ametista, a ricaricarti. Alle bruttissime prendi almeno un cristallo di ametista, perché a te questa luna ti stanca, è tanto per te. In effetti il sagittario e il toro sono segni differenti, tra di loro sono segni, uno è di terra, uno è di fuoco, il sagittario è di fuoco. Quindi è come se ti incendiasse troppo e ti senti un po' stanco. Vatti a ricaricare luoghi non fisici, e se c'è anche un luogo fisico puoi anche andare al mare a fare una passeggiata. Però servirebbe proprio la grotta di ametista, che è un luogo non fisico ma esistente. Gemelli, per questa luna piena il tuo angelo custode. È uscito da pochissimo il mio corso Migliora la tua vita con gli angeli in 28 giorni. Se non l'hai ancora fatto, mio caro Gemelli, potrebbe essere una soluzione. Lasciati abbracciare dal tuo angelo custode, non devi essere sempre forte, non devi fare tutto da solo. Puoi chiedere aiuto, non alle persone, ma sai perché dico così? Perché questo periodo mi rendo conto che siamo tutti molto affaticati e non ce la facciamo sempre a badare, tra virgolette, agli altri. Ma invece i nostri angeli sì, loro ce la fanno, loro possono darci tutto quell'extra energetico di cui abbiamo bisogno. E tu in questa luna hai bisogno di connetterti con il tuo angelo custode per ricevere energia extra, per lasciarti abbracciare, per lasciarti coccolare, per lasciarti amare. Tu Gemelli hai due parti, una parte sarà molto forte, sarà battagliera, ma l'altra parte la conosciamo, è fragile e dobbiamo amare, devi amare anche quella parte. Quindi prima di vedere se sei tu il segno fortunato, connettiti al tuo angelo custode. Se vuoi fare il mio corso e lo stai facendo è l'occasione giusta, se no anche qui su YouTube trovi tantissimi video per come connettersi all'angelo custode, eccetera, sul mio canale, puoi arrangiarti da solo. Poi vediamo se sei tu il segno fortunato. Cancro, Deva del Terzo Chakra, Leadership. È vero, il sagittario ci ricorda che il mondo ha bisogno di essere esplorato, ha bisogno di leader. Il leader, un leader del cancro, è un leader empatico, è un leader compassionevole, è un leader che per primo ha fatto quelle esperienze che gli permettono di capire gli altri, di guidarli con amore, con giustizia, ok? Quindi questa luna per te, mio caro cancro, è una luna che ti richiama alla leadership. Se sei di quelle anime che vorrebbero tanto essere invisibili, scomparire, che di fare il leader non ci pensano proprio, ti devo dare questa notizia, ossia questa luna piena ti pusherà, ti spingerà un pochino fuori dalla tua comfort zone in qualcosa di leadership. Quindi appena vuoi prendi in mano almeno una situazione, così non getti via le energie di questa luna piena, c'è qualcosa che richiede la tua leadership. Non ti credere, andrai molto meglio di quello che pensi. E dopo vediamo se sei tu il segno baciato in diretta dalla luna piena. Leone, io sono la matrix, ok? È una carta molto in linea con la luna piena, questa luna piena di fuoco in sagittario e leone anche un segno di fuoco, quindi ci si trova, vanno d'accordo e quello che porta è questo potere personale. Penso che i leoni ne abbiano bisogno particolarmente in questo periodo perché sono un po' persi. Ci sono dei transiti che stanno, come dire, tartassando il leone da ormai più di un anno che lo vanno a colpire laddove per lui è importante, quindi laddove c'è la leadership che il cancro non vorrebbe, laddove appunto dovrebbe ricaricarsi un po' le forze anche lui, eccetera. Ma in questa luna piena, fuoco su fuoco, è l'io sono. Chi sei, leone? Tu chi sei veramente? Cosa vuoi, per cosa vuoi essere ricordato quando tra 55 miliardi di anni non ci sarei più? Ecco, cosa vuoi lasciare? Ecco, questa è la domanda molto profonda che ti fa. Chi sei tu? La luna piena in sagittario può far uscire fuori la tua vera essenza divina, quindi potente. Dopo vediamo se sei il segno fortunato. Vergine, custode dell'attrazione, focus. Vergine, per te questa luna sarà una sorta di mamma dal cielo perché se tu applichi la legge di attrazione con la focalizzazione che sei capace di avere, perché tu, vergine, sei studiosa, sei determinata, sei seria nel senso che fai tutto ciò che ti permetti, se lo vuoi te, ovviamente. Ti auguro di volerlo in questa luna piena perché con il giusto focus puoi veramente attrarre, scusate, nella tua vita tutto ciò che desideri. Mi stavo mettendo comoda perché questa lettura mi prende, mi stavo aggirando, inizio a sbattere. Allora, bilancia, legge della polarità, aprite alla speranza, è veramente un consiglio. Prima di vedere se sarai tu il segno fortunato, mia cara bilancia, la legge della polarità fa male. Poi a te della bilancia proprio tanto che già di tuo oscilli sempre in questa insicurezza, questa tendenza al dubbio, eccetera. La legge della polarità viene a colpire dove fa più male, ossia proprio nell'insicurezza. Quindi se ti senti un po' persa, scegli la speranza, scegli l'avventura, scegli i sogni, non scegliere la sfiducia, non scegliere la paura, non scegliere la stanchezza. Tieni ancora un po' duro e cammina per quel polo che col tempo ti ripagherà. Questa ragazza è una luna che ci ripagherà nel tempo. Scorpione, Scorpione, devi iniziare a mandarmi dei regali ogni volta che faccio queste letture, a te ti capitano tutte le carte più belle. Veramente, sono felice. Custode dell'abbondanza, quindi una luna che porta abbondanza. Allora, potrebbe non essere un'abbondanza visibile subito, ma potrebbe essere la nascita di un progetto veramente che ti porterà ricchezza. Abbiamo visto, no, questo sagittario ci tocca col suo fuoco benefico di sogno, di ideazione, di progettazione, ok? Quindi potrebbe non essere subito un qualcosa di materiale, ma potrebbe essere un'idea, un progetto, uno spunto, un inizio di una collaborazione, qualcosa che da qui a un po', anche solo 30 giorni, ti inizia a dare frutti. E poi sono io curiosa tantissimo di vedere se anche questa volta sei tu il segno fortunato. Sagittario, proprio tu, vediamo un po', maestro, certo, tu proprio su un'altra dimensione da subito. Prima di vedere se sei tu che ti sei attratto, la tua carta fortunata, maestri delle stelle, è la tua luna piena nel segno di fuoco, la connessione con gli stellari è enorme. Già il sagittario viaggia, già il sagittario vola, scorre tra le dimensioni, con la sua luna piena si aggrappa tipo mongolfiera e viene portato dagli stellari. Sagittari, beati voi, questa settimana vi potete fare un giretto a casa, potete tornare alle vostre origini stellari, se già le conoscete, se non le conoscete potete iniziare ad esplorarle. Se siete super brave, super prove, avete fatto anche il corso di channeling, ve ne correte a gambe levate nel terzo sentiero, vi piazzate lì a mod di picnic e ci rimanete tutta la settimana a chiacchierare con i vostri fratelli delle stelle, perché il canale sarà aperto e sarà più facile la comunicazione, veramente se fossi in voce andrei tutti i santi giorni a chiacchierare, però insomma almeno una volta fatelo, channeling potrebbe essere la risposta per voi, oppure se avete l'oracolo del channeling e far parlare gli stellari con il metodo del lettore certificato dell'oracolo del channeling, insomma avete tanti modi, fateli fruttare. Capricorno, custode del paradosso, come anche il suo altro amico Toro, un po' faticati da questa luna di fuoco, qui il custode del paradosso, la vita è un gioco non per te in questo momento, la vivi con molta serietà, non riesci a lasciare andare, cadi in un paradosso, il paradosso dove ti senti che le cose importano solo a te, dove sembra che tutti gli altri se ne sbattano e tu debba fare tutto il grosso, tutto il faticoso, non è così sai, cioè nel senso potrebbe anche essere così perché magari tu per gentilezza o bontà l'hai impostata così, ma non è immodificabile, soprattutto con una luna piena in sagittario, puoi fare quello che vuoi, ma soprattutto puoi uscire dal paradosso, e sai qual è la cosa più divertente? Che l'uscita del paradosso è sempre dietro l'angolo, ma noi come, non lo so, in quei momenti ci fissiamo a guardar dritto, a guardar fuori e non vediamo l'angolo, quindi tu concentrati a vedere un paradosso nella tua vita e anche se c'è da fare un passo indietro, anche che c'è da ammettere che certo gli altri avrebbero potuto dire, fare, baciare, non so, però non l'hanno fatto, non importa, la vita è la tua, il paradosso è il tuo, se vuoi uscire dal paradosso ti tocca far qualcosa a te, non sperare in aiuti esterni perché mi spiace non arriveranno, non è cattiveria, è settaggio astrologico. Acquario, lese dell'equilibrio, bene, sii la tua priorità, anche qua aria fuoco, la tendenza un po' a far divampare incendi, non vale la pena, Acquario, trova il tuo equilibrio, sii la tua prima priorità, non lasciarti, come dire, portare, trascinare da questo fuoco del sagittario, prendi quel calore, prendi quell'eccitazione, prendi quell'avventura, prendi quella verve, quel coraggio, quel sogno, quella cosa del sagittario, questo suo movimento, questo bellissimo movimento che è il sagittario e portalo nel tuo personale equilibrio, Acquario, questo è ciò che devi fare e dopo vediamo se sei il segno fortunato, equilibrio, e infine pesci, legge della sfida, ma era prevedibile, era prevedibile, sto fuoco con voi che siete belli acquosi vi mette in sfida, era automatico, ma siete pronti a vincere perché? Perché chiaramente lo potete fare, la luna del sagittario piena è una luna di possibilità, è una luna potente che ti rimanda che puoi fare tutto quello che vuoi, ma anche che devi avere gli occhi per vedere questo pianeta e il pesce ce l'ha automatici, mentre l'ariete no, l'ariete è determinato, è duro, quindi va dritto, non la vede, tra virgolette, l'empatia perché è fatto così, l'ariete carica, nel dubbio carica e ti butta giù, poi se ne parla, i pesci no, nel dubbio piange, nel dubbio si fa un pianto, si fa un'analisi sua, pensa sempre anche agli altri, è empatico, la sfida è a vincere, sei pronta a vincere? La tua empatia può essere una risorsa e non un peso? Può essere un dono e non un peso? Fammelo sapere! Pronti a vedere qual è il segno fortunato, baciato dalla luna piena? Tanto gli altri riceveranno comunque un info in più. È tempo di guarigione del tuo terzo occhio, mia cara bilancia, questa settimana dovrai avere la visione, ma è tempo di guarigione, in effetti gli arieti fanno un po' fatica con i doni invisibili, essendo loro così forti e determinate, qualcosa di impalpabile a volte le lascia un po' così, ci fanno fatica, ma non importa, è tempo di guarigione del terzo chakra, quindi all'opera, con la tua determinazione puoi fare tutto. Toro, sei tu? No, qui abbiamo la grotta di Ametista per ricaricare le forze e focalizza la tua visione, vacci in questa grotta, non glissare, già stai dicendo, vabbè ma tanto lei non mi controlla, io nella grotta non ci vado, pazienza, vacci, 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 è importantissimo. Gemelli, sei tu? No, l'angelo custode, questa situazione non ti porterà a nulla, lasciati abbracciare, lascia andare, hai bisogno davvero di lasciare andare, hai bisogno di un aiuto extra che te lo può dare solo il tuo angelo custode, evidentemente gemelli hai bisogno di amore incondizionato, di non giudizio, hai bisogno di non sentire cosa gli altri pensano, magari ti fa male in questo momento o insomma questo valore un po' da solo, questa solitudine, no? Hai bisogno di un amore extra e te lo possono dare gli angeli perché quello di cui tu hai bisogno non è umano, è di più. E quindi questa situazione se continui a perpetuare non ti porterà a nulla, hai bisogno di andare da chi ti può aiutare. Cancro, sei tu? Luna viene in sagittario, yes! Cancro, sei tu? Allora, guarda le cose da un'altra prospettiva, quella della leadership, niente, non ti molla, eh? Sto sagittario ce l'ha con te, devi diventare leader di qualcosa, di quello che vuoi tu, leader della casa, leader della... Ma leader non vuol dire che sottomettere gli altri o quant'altro, leader vuol dire guidare, e tu veramente, Cancro, saresti un'ottima guida perché sei dolce, sei empatico, sei amorevole e soprattutto sai guardare le cose in prospettiva. Nonostante tu sia il vincitore della luna piena in sagittario, con la luna piena in sagittario noi continuiamo. Leone, per te, che cosa hai bisogno di lasciare andare? Con la matrice per creare il tuo io sono, anche tu hai bisogno di lasciare andare cose. Probabilmente, mio caro leone, maschere, maschere di forza, maschere di invulnerabilità, maschere di potercela fare tutto da sola. Ammettiamo tutte insieme che abbiamo bisogno del nostro branco, che abbiamo bisogno di qualcuno che a volte ci anche solo faccia ridere. I leoni sono un po' così, fanno tutto da solo e non devono chiedere mai, si sentono sempre invulnerabili. E quando sono vulnerabili è il loro giorno più brutto, però questa luna ci insegna che ci sono anche per noi le volte che dobbiamo mollare. Dobbiamo mollare per capire chi siamo realmente, perché forse la nostra autenticità non ha bisogno più, o magari prima aveva bisogno adesso no, comunque di pezzi extra che noi non riconosciamo. Quindi giù le maschere. Vergine, abbi il coraggio e fai la prima mossa sulla focalizzazione e attrazione. Molto importante quindi mettersi all'opera per attivare la legge di attrazione. Evidentemente la tua focalizzazione non è già ben settata, settala e poi man mano che ti ci concentri quella ti attrae, ma devi settarla, devi fare la prima mossa, devi avere il coraggio di andarti a focalizzare su quello che realmente vuoi. Vi lancia, l'energia prende slancio, brava, custode della polarità, prendi la via della speranza e non la via triste, diciamo così, la via possibilista e non la via disfattista e a quel punto l'energia prenderà uno slancio. Avrai un aiuto extra, proprio perché è un po' fuori dalla tua comfort zone, dall'universo ti danno un aiuto extra, cogli questa luna, molto importante. Scorpione è la legge dell'abbondanza e poi arrenditi al divino, devi avere abbondanza. Mio caro Scorpione arrenditi e apriti a questa abbondanza. Che vuol dire questo però? Che se non hai l'abbondanza ci sono dei pensieri limitanti. Arrendersi al divino può voler dire per te se hai fatica nell'abbondanza Scorpione di ripeterti un'affermazione positiva di questo genere. Poi puoi scriverti la tua, però qualcosa tipo io merito abbondanza. Io sono degna, degno, di abbondanza perché vedi arrendersi all'abbondanza vuol dire accoglierla, vuol dire accettarla, ma se le carte mi dicono questo vuol dire che forse non c'è questa predisposizione. Quindi se ce l'hai buon per te, se non ce l'hai usa le affermazioni, usa qualunque cosa ma arrenditi al divino, accetta l'abbondanza nella tua vita. Ti garantiamo tutti gli altri segni che c'è di peggio, quindi Scorpione fallo e facci sapere come va. Quindi Scorpione Sagittario, allora esci dalla tua zona di comfort mia cara e inizi a viaggiare tra le dimensioni, vai dai maestri stellari di più. Io te l'ho già detto ci sarei andata tutti i giorni, quindi esci dalla zona di comfort. E se non sei mai andata, non hai mai fatto channeling, studia channeling, impara a fare channeling, impara questo oracolo per far parlare ai maestri, impara quello che desideri tu, ma esci dalla zona di comfort e fallo. Se già le sai fare e hai messo via la tecnica, non ti funzionava tutte queste cose date dai blocchi, superali, è il momento giusto per ritornare nel sentiero, riprovare a ricevere il messaggio. Può andare bene, può non andare, non importa, però fallo. Capricorno, legge del paradosso e credi nell'impossibile. Il tuo impossibile, Capricorno, soprattutto per come sei fatto tu, è credere di poter uscire dal paradosso. E lo puoi fare, cioè forse senti in questo momento la tua vita, non ti dico non ha speranza in senso negativo, ma dici vai, chi mi ci tira fuori da qua? Tu stesso e i tuoi protettori. Credi nell'impossibile, puoi veramente avere un miracolo che ti porterà fuori da questo paradosso. Acquario, non lasciare che il passato ti ostacoli, trova il tuo equilibrio. Se delle passioni, se delle emozioni, se dei sentimenti ti travolgono in questa luna piena, tu non lasciare che il passato, quindi queste emozioni che vengono dal passato, ti ostacolino. Tu hai il dovere barra potere di trovare il tuo nuovo equilibrio, che come ti dicevo all'inizio, essendo questa una luna in prospettiva, ti aiuterà anche nel futuro. E infine, pescetti, sei molto vicino al tuo obiettivo, custode della sfida, pronta a vincere, la vittoria è vicina, hai la vittoria vicina, ma c'è una sfida, perché chiaramente questa luna è di fuoco, che è più o meno compatibile con te in base a tutto il resto della tua carta astrale, ma diciamo che così a livello puro, solo di sole, quindi i disegni zodiacali che corrispondono col sole nel momento in cui siamo, dove era posizionato il sole nel momento in cui siamo nate, nel tuo caso che era appunto in pesci, è una sfida, come dire, dare al mondo la tua empatia, la tua dolcezza, la tua saggezza, avere la forza di esporsi, insomma tutto quello che tu sai che è una sfida, ma sei molto vicino alla tua vittoria, non mollare, anzi usa questa luna per fatti trasportare, il sagittario trasporta, corre, lui è metà cavallo, metà uomo, è una creatura particolare, mettiamoci a cavallo del sagittario, facciamoci portare chi deve farlo, dove vogliamo andare, tu che sei vicino alla vittoria mio caro pesci, cogli quest'occasione, spero che questa lettura vi sia piaciuta, io come al salito amo farla, spero che piaccia anche a voi, quindi cancro, questa lettura di luna piena sei tu, a te è capitata la carta del mazzo di monologi della luna piena in sagittario, l'altro mazzo usato ovviamente è il mio dell'oracolo del channeling, vi auguro una settimana meravigliosa, a settimana prossima, tanta luce, ciao ciao!